Do volentieri la parola per la prima volta all'Onorevole Adenolfi. Prego. Presidente, oggi nella città martire di Oms i morti sono stati 34. Ieri, sempre a Oms, i morti sono stati 67. Nella città di Duma sono stati uccise 6 persone, tra cui 2 bambini. Io non so fino a quando, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, la comunità internazionale potrà, rispetto a criteri di prudenza che sono comprensibili, perché la situazione è estremamente complessa, continuare a sopportare questo stilicidio enorme. Perché sopportare vuol dire tacere, vuol dire fingere che queste cose non avvengano. Queste cifre sono significativamente tragiche, perché completamente sottovalutate, perché completamente non percepite. Non è notizia di oggi che trovate sui giornali. Eppure la notizia è stata diramata 5 ore fa, quella dell'ultima strage di Oms, che ripete, è una strage di 34 persone di lunedì, che fa seguito a un'altra strage di domenica di 67 persone nella stessa città. E non stiamo parlando certo di New York, per capirci, in termini di proporzione e di popolazione. È un massacro sistematico che pretende la reazione da parte della comunità internazionale. E in questa reazione c'è un ruolo importante che può svolgere l'Italia. Mi rivolgo direttamente alla sensibilità del sottosegretario Staffan de Mistura, di cui conosco intelligenza e competenza. Mi rivolgo, anche se non ce l'ho presente qui, al Ministro Terzi. L'Italia deve diventare protagonista di un'iniziativa internazionale. Hanno detto bene i colleghi che hanno illustrato le prime due mozioni che sappia solidificare la comunità internazionale intorno alla condanna nei confronti del regime di Assad. Ma sicuramente non possiamo continuare a vedere snocciolati, giorno dopo giorno, dati di incredibile tragedia nell'indifferenza sostanziale dell'Unione Europea, dei partner della Lega Araba, in una inazione che diventa inevitabilmente complice e parzialmente colpevole. Io credo che, da questo punto di vista, il Parlamento italiano abbia con oggi, ed è il motivo per cui sono stato molto lieto di avere come prima giornata di impegno del parlamentare quello di poter essere parte di questa discussione, assunto una porzione di responsabilità. Questa porzione di responsabilità ricade ora immediatamente, credo, sul Governo qui ben rappresentato. Signor Sottosegretario, si faccia lei in prima persona parte di un'azione che sappia cogliere la tragicità dei dati che ho citato. Stiamo parlando della morte di 14.000 civili, in grandissima parte giovani e giovanissimi, centinaia di bambini, una rivolta nata, sapete quanto a me sia caro il tema, via Twitter, via rete, dove le formule della comunicazione contemporanea hanno svolto un ruolo decisivo per far risvegliare coscienza che hanno sopite in una condizione di regime dittatoriale. Non lasciamo sole queste persone, perché il massacro è talmente grave, talmente pesante, che grida davvero a questo punto vendetta davanti all'intera comunità internazionale. Grazie a lei, onorevole Adinolfi. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Grazie a lei, onorevole Adinolfi.